Esiste un rischio concreto di ricaduta del reato e di inquinamento delle fonti di prova. Così il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, Sergio Marotta, ha motivato la misura cautelare dei domiciliari per Giancarlo Giordano e Vittorio Bartoli, il primo funzionario del genio civile e consigliere comunale a Nocero Inferiore. Il secondo collega del primo è in pensione dopo la convalida di lunedì per i fatti di Palinuro. I due, ricordiamo, erano stati arrestati giovedì scorso per concussione dopo aver gettato dall'auto, accendola all'alto dei carabinieri, una busta con dentro 1000 euro. Fondamentale l'azione dei militari dell'arma della stazione di Palinuro guidata dal maresciallo Giuseppe Sanzone con il supporto del maresciallo Giovanni Cunzolo. Quei soldi, per la procura, rappresentavano una mazzetta ottenuta poco prima da un imprenditore. Il GIP parla di rischio elevatissimo in assenza di misura cautelare, distinguendo prima il ruolo di Giordano e firmatario del verbale, si legge, di constatazione di somma urgenza redatto dal comune di Centro il 18 novembre scorso, oltre che preposto alle funzioni di sorveglianza sui lavori da fare presso l'asta fluviale del fiume Mingardo. La vittima aveva denunciato tutti i carabinieri dopo una serie di approcci con i due, iniziati proprio dopo la riunione al comune. All'arrivo degli indagati la vittima si è presentato con banconotte consegnate dagli stessi carabinieri che assistevano all'incontro. Per il giudice si tratta di concussione via uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo, ma è innescato dall'abuso del funzionario pubblico. Per quanto riguarda la difesa dei due, il legale soprattutto di Giordano, Gennaro Somma, sta ora preparando il riesame per meglio chiarire la posizione del suo assistito.